Noi siamo specializzati nell'uso della biga tradizionale, un impasto molto semplice costituito da una farina forte, dell'acqua e un pizzico di lievito che lasciamo riposare per 16 ore, come fanno i panifici artigianali. Con questo impasto noi realizziamo diversi prodotti della tradizione italiana, dalla ciabatta classica alle famose pizze e focacce. Grazie a questo metodo otteniamo molti pani rustici, pizze, focacce incredibilmente soffici e delicate dai sapori tipicamente italiani. Celebriamo la vera tradizione italiana grazie alla ricchezza dei nostri ingredienti, semplici ma saporiti. Per la pizza ad esempio utilizziamo solo passata di pomodoro mozzarella italiani. La mozzarella viene aggiunta alla fine del processo produttivo, di modo che rimanga fresca e filante quando i nostri clienti andranno ad infornare. Ogni giorno andiamo a riscoprire il gusto autentico del pane della tradizione, con processi produttivi su scala industriale. Daily France, coltiviamo insieme l'arte del pane. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.